nei pressi di un fiume. Sono le anime dannate, in attesa di Caronte, il traghettatore della Cheronte, che sopraggiunge a bordo della sua barca. Caronte si accorge che Dante è un uomo vivo e gli nega il passaggio, ma Virgilio si appella alla volontà divina. Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. La scena è impressionante. Carondimonio minaccia e raduna gli spiriti con occhi fiammeggianti e li batte col remo. Virgilio spiega che qui convergono da ogni paese coloro che muoiono nell'ira di Dio. Il rifiuto di Caronte è un buon segno. Significa infatti che Dante non è destinato alla dannazione eterna, ma a salire sulla più leggera barca che conduce le anime alla montagna del Purgatorio. Provato dall'emozione, il poeta viene sopraffatto dallo spavento per tre impressionanti fenomeni infernali, un terremoto, un vento improvviso, un lampo di luce vermiglia. E caddi come l'uomo cui sonno piglia.